Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo sfigatissimo video della mia serie tutorial su Skater XL Cambiamo mappa perché voglio fare proprio tutti i video in mappe diverse così da non annoiarvi troppo e da non annoiare troppo neanche Me stesso, oggi vedremo come si fanno i 180 e i 36 sulla tavola Ovvero impareremo come far ruotare il nostro skater sull'asse verticale In modo che i trick e le combo a nostra disposizione aumentino proprio sempre di più Se siete capitate su questo video perché volete vederlo mettete mi piace So che ve lo chiedo sempre, ormai sapete già il gioco, per chi non lo sa ragazzi chi non chiede non riceve Quindi io chiedo in modo da ricevere, si spera Mettete mi piace per supportare questo tipo di contenuti e per aiutare a promuovere Che accento usato, aiutare a promuovere lo skateboarding sempre di più e farlo conoscere sempre di più persone Perché più siamo meglio è, soprattutto in questo bellissimo sport Iscrivetevi anche al canale, attivando la campanellina per non perdere i futuri video su questa serie Soprattutto se siete dei newbie Ok, detto questo oggi impareremo a far ruotare il nostro skater Allora, come accennavo nel primo video Una volta poppata la tavola Con le levette potete mettere i piedi dove volete Per esempio, se io sposto tutte e due le levette a sinistra Guardate come la tavola si sposta in quella direzione Quello che forse non abbiamo trattato è Cosa succede se noi spostiamo le levette nelle parti opposte Se io sposto il mio back foot a destra e il mio front foot a sinistra In questo modo qua Vado a mettere la tavola, pam, in perpendicolare Perché dico questo? Perché iniziamo questo tutorial qua Vedendo i revert che sono questa roba qua Ovvero i 180 ruotati direttamente per terra Questi vi saranno molto utili per future combo Come si va a fare questo? Prima di tutto si mette la tavola nella direzione in cui la volete mettere Quindi pam, in questo caso qua E poi ci si dà un aiutino Ci si dà un aiutino con i dorsali Per esempio, se io voglio girare a sinistra Metto la tavola qua e poi premo leggermente il dorsale E vedete che facendolo velocemente Ho fatto un revert Lo faccio velocemente, boom Ho fatto un front side revert Se faccio la stessa cosa ma al contrario Quindi levette così e dorsale destro Facendolo velocemente vado a fare un back side revert Volendo, è un po' più difficile ma si può fare Si possono fare anche dei 360 revert Semplicemente vado prima a mettere le levette E poi tengo premuto un po' di più le levette Volendo si possono anche fare dei revert e poi tornati indietro Che si chiamano in questo caso power slide Questo perché sì, di base se noi tocchiamo solo le levette Senza toccare i dorsali Quello che in realtà andiamo a fare è un power slide Ovvero frenare È uno dei modi che possiamo utilizzare per frenare i nostri trick Ed è anche quello probabilmente più stylish Anche se in questo gioco Sinceramente non credo sia fatto così bene Perfetto, quindi una volta imparati i revert e poi capirete perché ve l'ho insegnato Vediamo come si fanno i 180 Semplicemente dopo aver poppato Uno dei modi che possiamo utilizzare per fare 180 è Dopo aver poppato, cliccare il dorsale Ok? Semplicemente se vogliamo girare a destra Clicchiamo il dorsale a destra E se vogliamo girare a sinistra Clicchiamo il dorsale a sinistra E lo teniamo premuto ragazzi Perché se no non riusciamo a fare la rotazione Esempio Vedete che se io non lo tengo premuto Non riesco a fare la rotazione Un altro modo per fare i trick I 180 È poppare Cliccare solo leggermente il dorsale E andare a finire la rotazione con le levette Quindi è come se vogliamo Fare un revert in aria Oppure addirittura fare prima le levette E poi toccare leggermente il dorsale Vedete quanti stick diversi si possono aggiungere a questi trick Ora, qualunque cosa io faccia Se poppo normalmente la mia tavola Purtroppo non riesco a fare il 360 O meglio Non riesco a farlo in maniera pulita Vedete che io posso poppare Posso fare un 180 E poi dopo posso volendo fare un revert alla fine Ve lo faccio Poppo Giro e poi aggiungo il revert alla fine In questo modo qua A seconda di quanto siete bravi Potete arrivare a fare un 360 Però diciamo che in maniera un po' più barata In realtà a me piacciono tantissimo I revert fatti in questo modo qua A seconda del trick Se invece vogliamo andare a fare un full 360 Come potete immaginare Dobbiamo portare tutte e due le levette In questo modo abbiamo più airtime E poi andare a tenere premuto il dorsale Nella direzione in cui vogliamo andare a girare In questo modo il nostro skater carica le spalle E noi semplicemente Questo è proprio voluto dal gioco Basta Tenere premuto la levetta E vedete che in automatico In questo caso viene fatto il 360 Questo è voluto dal gioco ragazzi Caricare le spalle per andare a fare il 360 Ok? Combinando queste cose che vi ho detto Si possono andare a fare delle cose davvero assurde Ad esempio Poppando e andando a girare le levette E dorsale all'ultimo momento Si possono fare tipo dei late 180 Guardate Bam! Ok? Quindi potete andare a personalizzare i 180 Come volete voi Volendo si possono anche fare cose del genere Vedete come la prima parte del trick è girata in un modo La seconda è molto più veloce Lo rifaccio Non è proprio venuto al meglio Oppure volendo potete girare le levette in parti assurde Per dare proprio alla tavola delle cose incredibili Per esempio Se io popro la tavola Sposto le levette in qua E contemporaneamente giro dalla parte opposta Vado a fare una roba assurda Che adesso non mi viene neanche perché non la faccio mai Vado a fare prima un movimento E poi il one 80 dall'altra parte Quindi ragazzi Usate la fantasia E riuscirete a fare delle cose davvero assurde E vedete come pian piano stiamo in questa serie Andando ad aggiungere sempre più pezzettini Fino ad ottenere tutti gli elementi per fare delle combo Incredibili Comunque per questo video in realtà è già tutto ragazzi Non perdetevi il prossimo video dove andremo a parlare di manual Un altro elemento per aggiungere combo ai nostri tech E poi successivamente andremo a parlare di grind E di cose sempre più avanzate Quindi rimanete sintonizzati Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina E mi raccomando ragazzi Vi costa un secondo del vostro tempo Mettete mi piace Noi ci vediamo al prossimo video Ciao